Ragazzi ma che partita è stata? Ma che partita è stata? Io come faccio a commentare a questa partita? Ragazzi è durata un'infinità, ci sono state due partite diverse, una che è durata 35 minuti, l'altra che è durata 70-80 minuti Non so quanto è, una cifra atomica, veramente di minuti di recupero in questa partita Però comunque, veramente un 3-0 che ci regala un inaspettato fino a qualche tempo fa Meno uno dal secondo posto, ci stiamo pian piano riprendendo quello che avevamo guadagnato nelle prime 8-9 giornate Adesso non ricordo quante erano, però comunque il Palermo piano piano si sta riprendendo questo secondo posto Per lo meno così sembra ragazzi, perché la squadra ha una rosa che è veramente dire forte e dire poco E siccome io continuo a vedere la stampa che esalta il como, le strefezze, il miglior acquisto dell'anno La miglior campagna acquisti dell'anno di gennaio e intanto poi prendono tre pere a Palermo Io dico, va bene, continuate ad esaltare tutti tranne il mercato fatto dal Palermo A me non mi importa poco, ma continuiamo così, continuiamo così, va bene così Quello che dico io è, cerchiamo di ridimensionarci e cerchiamo di analizzare qualche ricordo di questa partita Perché ragazzi è stata una partita piena di emozioni Una partita che ha, diciamo, regalato una prima mezz'ora barra 35 minuti davvero tosti per il Palermo Perché il Palermo, primo di Lucioni e Lund, quindi una difesa rimaneggiata Ma che, vabbè, ormai Lucioni lo sappiamo da un po' che manca Lund invece è sorpresa, tra virgolette, è un affaticamento muscolare E invece nel como mancava Cutrone, anche lì assenza importante ormai da tre giornate se non sbaglio È, come possiamo dire, una partita che inizia con... è preparata in maniera diversa È il Palermo più attendista Il como invece prende in mano la partita E mostra una qualità tecnica Una capacità di triangolazione Di muoverla palla velocemente Un'organizzazione di gioco davvero importante Soprattutto un pressing alto Che, diciamo, è stato un investimento di sforzi, no? Un investimento di forze fisiche E del como che ha puntato tutto proprio sull'aggressività iniziale E le occasioni, dobbiamo dirle, le ha avute Per portarsi in vantaggio un Palermo che veramente Per la prima mezz'ora non ha visto la porta Proprio non l'ha vista Non ha visto la palla, non ha visto niente Un Palermo che forse l'ha preparata così Non si sa, ci sta che l'abbia preparata così E, diciamo, si è anche abbastanza difeso bene Tranne in alcuni piccoli svarioni Ma niente, io oggi non ho molto da segnalare A livello difensivo Perché si è mostrata comunque una compattezza importante Della squadra Non solo del reparto difensivo Ma di tutta la squadra Nella fase difensiva Questo che voglio dire Quello che voglio dire è Complimenti al como perché ha fatto Era bello da vedere Io guardavo il como e dicevo Ma perché noi non riusciamo a giocare così Però poi alla fine In soldoni Quanto ha pagato al como Questo tipo di approccio alla partita? Secondo me non moltissimo Perché poi è arrivato il contropiede Del Palermo Che cercava di pungere coi contropiedi Anche se con questo pressing alto Non c'era mai riuscito fino a quel momento Di Mariano Per l'ennesimo assist della stagione Serve Brunori al centro Che segna Con un tocco Molto molto ravvicinato alla porta Ragazzi C'è da dire che Brunori è una faina Di è stato molto bravo A sfruttare l'unica occasione davvero Che gli è capitata Brunori nove gol in questo campionato E ci portiamo in vantaggio inaspettatamente Perché ragazzi Io non dico che mi sono vergognato Ma quasi Qua una scena di vantaggio Però da lì Da lì Quando poi c'è stato Il gol Di Di Gabrielloni Annullato Ecco lì c'è stato Questo doppio contraccolpo Al Al Como Che Alla fine Ha pagato Cioè il Como a un certo punto Annetto poi del Doppio infortunio Sfortunato che ha avuto Prima con Baselli Che ha proprio una carriera Sfortunata Questo ragazzo Perché non Cioè è un giocatore che meritava Ben altri palcoscenici Ma sicuramente La 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 problematica I suoi problemi fisici Non lo hanno aiutato assolutamente Oggi l'abbiamo avuto dimostrazione Proprio la sua carriera Ma anche con Echino Cioè quello che l'ha sostituito Si è infortunato Quindi insomma Il Como si è trovato A un certo punto Con un solo cambio Poi nel secondo tempo Da poter sfruttare E quindi insomma Sicuramente è danneggiato L'abbiamo stato più infortunio Ma Il Palermo Dopo Quelle occasioni Ha avuto Un paio di occasioni Per Chiudere Il match Sul tiro di Francesco Poi su quel lancio Quel calcio di condizione Che Ciccaroni ha sfiorato Insomma Si va Al fine primo tempo Paradossalmente Con l'amaro di non aver fatto il 2-0 Cioè è una roba incredibile Se ci pensate Il Palermo Entra nel secondo tempo In una forma strepitosa Il Palermo Entra nel secondo tempo Con un atteggiamento Incredibile Aggressivo Pressing alto Un Palermo Che sicuramente Ha giocato un po' di risparmio Delle forze Nel primo tempo Le ha investite Tutte sul secondo Si è visto Un pressing altissimo Si è visto una squadra Più alta Si è visto una squadra Più concentrata Ma anche Ma non più concentrata Perché lo era anche nel primo tempo Ma proprio Più propensa A volerla vincere Questa partita Adesso Ad essere più sfrontata Ad essere più offensiva A far capire al Como Che Chi siamo E che ci siamo anche noi E quindi Lì il Como Che comunque è entrato invece Con un po' di fatica Iniziale Ci ha provato anche A reagire A questo inizio aggressivo Del Palermo Sai di fatto che poi Il Palermo Macinava occasioni Io ricordo una Una su tutte Quella che mi ha fatto Bestemmiare Tutti i Santi Del calendario Quando Ranocchia Fornisce un assist Una palla Morbida Meravigliosa Forse con un esterno Non so come l'ha toccata Quella palla E' emozionante Vedere quella palla morbida Per Gomez Che salta il portiere E non tira in porta La serve al centro Credo a Di Francesco Che Non mi ricordo Se era di Francesco Brunori Ma comunque Troppo L'ha servito anche male Insomma L'occasione Buttata nel vento E poteva essere Io Avevo pensato Potrebbe essere Un'azione Che poteva darci Un contraccolpo No psicologico Sia a Gomez Che alla squadra Invece no La squadra è retto La squadra è retto Da tutti i punti di vista Un Segre stratosferico Un Aurelio stratosferico Un Bianchite Che è un muro Nè del Cearo Che è sempre Un difensore Cambiato Rivoluzionato Ragazzi Solidità Difensiva Dà paura Se stiamo recuperando Un'identità O forse la stiamo Non solo recuperando Ma la stiamo trovando Anche un'identità Perché è una nuova Identità Questa Non è lo stesso Palermo Che era primo O secondo in classifica A inizio campionato E Questa cosa Mi sta incoraggiando Tantissimo Ad essere Oppositivo E ottimista Perché È un Palermo Forte Quando poi si presenta Di nuovo Di Variano Palla al centro Un po' Un batti e ribatti Ranocchia La butta dentro Terzo gol La partita sembra Ormai Dare un K.O. Al Combo totale Veramente È lì Ranocchia Si fa capire Che anche lui È stato acquistato 4 milioni Un giocatore importante Che con la Serie A Non c'entra niente Eppure Mediaticamente Non se ne parla molto Lo dico sempre 4 milioni Centrocampista Che ha fatto 3 gol In 4 partite 3 gol In 4 partite Un centrocampista Ragazzi Ad Empoli giocava Mezzala Quindi Qua fa il trequartista Quindi vi dico Solo questo E Detto questo Il combo lì Sembra proprio Annichilito A un certo punto Poi abbiamo avuto L'occasione Su un calcio di punizione Che sembrava inerme Vediamo Segre Segre Diciamo in maniera Un po' sospetta Sul punto di battuta A un certo punto Palla Questo è uno schema Fantastico Pallonetto Per Di Francesco Che si inserisce in aria Tira una bombazza E Segna il 3 a 0 Che chiude I conti Proprio Chiude definitivamente E dà al Palermo Una vittoria netta Su un avversario Così importante E lo lancia Verso il secondo posto La settimana prossima Ragazzi Parma C'è Como Parma Cremonese Palermo Altri due partite Importanti Che possono Significare molto Ricordiamo che C'è Venezia Che deve ancora giocare Ma Detto questo Noi non possiamo Che essere felici Sono entrati i soleri Ma prima di loro Io reputo importanti Anche il cambio Di Kulibali e Batic Che sono stati Molto importanti Per dare forza Nelle ultimi minuti Gli ultimi 20 minuti Perché ha messo Fisicità in campo Corini e quindi A questo punto La squadra ha retto Anche meglio Di a centrocampo Basici Terminate anche in difesa Insomma Io Spenderia anche le parole Per Aurelio Non giocava Una partita titolare Forse la cittadelco Cittadella In casa E poi fra l'altro 90 minuti Non so se li aveva mai Giocati Quest'anno Non mi ricordo Credo di no E' arrivato Stremato Ma ha fatto una partita Attentissima Bravo Aurelio Veramente cresciuto Mi è piaciuto tanto Ma come mi sono piaciuti Tutti ragazzi Veramente tutti Tutti attenti Di Aikite in particolare Veramente un muro Poi corre come un cavallo Lì Veramente Veramente ragazzi Ci voleva come il pane E ci sono state Poi gli ingressi Successivamente Di Soleri E Insigne Che non hanno dato Molta Alla partita Ovviamente Ci ha trovato Ci ha trovato 5 minuti Nel finale Va bene Oggi non possiamo dire nulla Evidentemente ragazzi In questo momento Per Corini Può giocare 5 minuti Spero di vederlo Un po' di più Perché secondo me Ha dei colpi importanti Ma oggi Come facevi a farlo giocare di più Era Cioè forse Avrei fatto entrare prima Anche forse Soleri E Insigne Potevano entrare Poteva entrare anche lui prima Ecco insieme Insigne e Soleri Ecco però Ha detto questo Oggi non ci possiamo Lamentare di nulla Anzi Non possiamo soltanto Che complimentarci Con la squadra Con Corini E con tutti Veramente E Sperare che Questa sia la volta buona No la volta buona Che ci lancia Ci lancia verso Questo secondo posto Questa lotta importante Ditemi cosa ne pensate Ditemi cosa ne pensate Nei commenti Che cerchiamo di Confrontarci Da questo punto di vista Io A letto di chi mi dirà Poi tu eri quello Che ha criticato la squadra Ragazzi In quel periodo Tra novembre e dicembre Tutti Abbiamo criticato la squadra Perché ci stavano Facendo impazzire Nessuno parlava Nessuno diceva Quali erano i problemi Si vedeva un Palermo Che non correva Non camminava Sono stati due mesi Di inferno Per i tifosi del Palermo E nessuno Ci ha chiesto scusa Ci stanno chiedendo scusa Oggi Come? Con i fatti Con l'atteggiamento Con l'impegno Con la forza Col mercato Con tutto Questo è il modo In cui il Palermo Ha chiesto scusa i tifosi Per quei due mesi In cui nessuno Ci ha capito niente Ragazzi E non era colpa Dei tifosi Se non ci stavamo capendo niente Era Infatti ricordate anche Ad esempio Alessandro Amato Ragazzi A TRM Ci stava perdendo la salute Come tutti noi Non è una questione Di essere bravi A prevedere A non prevedere A prendersi con la squadra Ragazzi Quei due mesi Sono stati un inferno E ne stiamo uscendo Alla grande E merito di tutti Così come all'epoca È stata colpa di tutti Merito al Palermo Che ne stava uscendo Bene così Siamo tifosi del Palermo E noi siamo contenti Siamo contenti Ciao